Vi è libera da alcune modifiche della legge sulla caccia, ecco in estrema sintesi cosa cambia? La legge sulla caccia che abbiamo modificato, la parte più importante è quella che dà la possibilità con un atto di giunta di poter ripristinare la caccia nelle zone Natura 2000, SIC e ZPS. Questo ha un significato forte, non solo ripristinare una passione per i cacciatori, ma non è questo principalmente, è il fatto che si dà una risposta soprattutto a quello che è il controllo dei cinghiali e degli ungulati. Sappiamo benissimo qual è il problema, la grande presenza di danni all'agricoltura, tenere ferma la caccia nella zona Natura 2000 significava moltiplicare i cinghiali, avere tantissimi danni in più che la TIC non riuscì neanche a pagare perché qualcuno di loro già stava pensando come restituire i soldi ai cacciatori dell'iscrizione perché non hanno più il terreno di caccia. Quindi questo atto dovrebbe ripristinare velocemente in settimana la possibilità di andare a caccia nuovamente e quindi ristabilire una situazione di gestione che continua comunque a essere al centro dell'attenzione della giunta e anche della commissione in un rapporto con le associazioni agricole per migliorare questo dannoso problema.